Sono molto contento per il primo gol in questo grande club, con questi tifosi che sono troppo forti e grazie per questa atmosfera. Prima di tutto sono felice per la vittoria, questa vittoria è troppo importante per noi perché tutti lo siamo. Qual è il nostro obiettivo? Andiamo ad allenare ancora più forte, arrivare il più veloce possibile di questo nostro obiettivo. Abbiamo cambiato mentalità, così si deve giocare tutte le partite, abbiamo visto che tutti i giocatori che sono entrato dentro di partita sono stati bravi, siamo tutti a disponibilità, anche per cinque minuti si deve lasciare sangue in campo, ma è importante che alleniamo bene, siamo sereni. Prima abbiamo passato tanti momenti difficili, anche io sono entrato tante volte, una volta ho fatto rigore, una volta ho giocato così così, ma il calcio è così, è importante che abbiamo andato avanti, siamo felici di stare qua in play-off e vogliamo continuare così. Sì, ho visto già subito quando Pat è preso palla, ho visto lui Alvarez per giocare, ho visto spazio, sono andato, poi è arrivato anche Manu, ho lasciato molto bene per Borini, Borini mi è passato una bella palla avanti e poi io devo solo fare gol e sono molto contento. Tutti vogliamo giocare tanti minuti, sono entrato quasi alla fine, voglio dimostrare che ce l'ho voglia per giocare bene e grazie a tutti che sono stati con me prima in un momento difficile anche adesso, in questi momenti belli, ma come squadra siamo troppo forti, troppo buoni e si deve andare avanti così.